Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della Casa di Carta Corea, serie, remake naturalmente, della Casa di Carta uscita oggi su Netflix e che in realtà ho avuto la possibilità di vedere qualche settimana fa. E questo è anche il motivo per cui questa recensione la trovate, diciamo, o prima che finisca la durata del minutaggio necessario per vedere i sei episodi, o magari subito dopo. Perché allora non ho fatto la solita recensione in anteprima e ho aspettato appunto il giorno d'uscita della serie. Vi spiego velocemente il mio piano ardito come il professore. Mi arriva la mail qualche settimana fa. Abbiamo caricato sul tuo profilo Netflix i primi sei episodi della Casa di Carta Corea. Io essendo comunque abbastanza curioso mi sono messo lì e ho guardato questi sei episodi. E ho pensato, guardando anche il finale, vabbè, a sto punto aspetto che esca il 24, l'embargo finisce il 23 alle 15, più o meno, 15 e 30, quindi da quell'orario avrei potuto tranquillamente pubblicare questa recensione, ma io aspetto di vedere gli altri episodi che verranno caricati il 24, l'inizio a vedere subito alle 9 appena caricati, così comunque sono in vantaggio, diciamo così, sugli altri che ancora non hanno visto la serie, e posso pubblicare comunque la recensione in una sorta di anteprima. Quindi metto le sveglie alle 9, più di una, una alle 8.59, una alle 9, una alle 9.01, e niente, sono le 12 e mi sono svegliato da 20 minuti probabilmente. La cosa fortunata, diciamo così, è che non devo vedere altri episodi, perché a quanto pare questi sei erano gli unici che sarebbero usciti poi il 24, oggi. E quindi velocemente eccomi qui a parlare di questa serie, basta. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, link in iscrizione, Instagram, Twitter e TikTok. Vi invito anche a supportare il canale gratuitamente, anche con un semplice like, un'iscrizione se non siete iscritti, oppure anche una condivisione. O magari anche più condivisioni, non vi freno. Se invece volete supportare il canale ad un livello maggiore, diciamo così, in descrizione trovate il link di Pampling, il sito di t-shirt e non solo, dove trovate la t-shirt che indosso oggi, a tema naturalmente la casa di carta, quella originale, e ci sono tanti altri prodotti, sia a tema la casa di carta che non. Se al momento del pagamento userete il codice PENSIERO4, avrete inoltre il 20% di cashback, ovvero dei soldi che tornano indietro sul vostro profilo Pampling, sotto forma di punti che poi possono essere spesi in un altro ordine, e un paio di calze da scegliere, da inserire nel carrello, che vi verranno a costare solamente 0 euro, perché sarà un regalo del codice e del sito. Quindi cosa aspettate? Il link di Pampling, ripeto, è in descrizione. Ma adesso iniziamo con la recensione. Recensione che secondo me sarà abbastanza breve. Ora vedremo quanto durerà questo breve, perché quando dico breve solitamente mi dilungo per 10-15 minuti. Non penso di fare questa roba oggi, comunque vedremo. Secondo me potrebbe durare poco, perché non ho tantissimo da dire su questa serie, visto che in pratica, a parte l'Incipit, è la solita casa di carta che abbiamo visto con la prima stagione tanto, tanto tempo fa, almeno io. Non cambia in realtà nemmeno tantissimo. Appunto l'Incipit, lo dicono già nel trailer, non è uno spoiler, posso dirvelo tranquillamente, è che le due Coree, quindi Corea del Nord e Corea del Sud, abbassano le armi, diciamo così, e fanno un'unica nazione. Cosa che nella realtà non penso succederà così tanto presto, infatti la serie è ambientata qualche anno dopo, quello che stiamo vivendo, nel 2025. Ed effettivamente l'unica parte che si discosta molto dalla casa di carta originale, quella spagnola, è il primo episodio. Perché vediamo la vita di Tokyo, di quella che poi sarà Tokyo, una volta tornata dalla guerra, una volta appresa la notizia dell'unione delle due Coree, e così via. Cosa fa, cosa non fa, chi incontra, chi non incontra, eccetera. Primo episodio che dura un'ora e più, e anche gli altri durano un'ora e più, fino ad arrivare anche un'ora e trenta, se non sbaglio. Per favore Netflix Corea, o semplicemente Netflix, la smettiamo di far durare così tanto un solo episodio, perché a questo punto guardo un film, se voglio comunque spezzettare la visione. Dura tantissimo, un episodio che dura un'ora e quaranta, un'ora e trenta, quello che è, non mi ricordo, è una durata eccessiva. Spezza meglio la serie, fai una prima stagione di otto, dieci episodi, cosa che alla fine mi sarei comunque aspettato vedendo solo sei episodi. È un problema che ho riscontrato anche in Non Siamo Più Vivi, gli episodi erano enormi, e mi pare che quella serie fosse coreana, non penso giapponese. Di Squid Game in realtà non ricordo la durata, però non ricordo assolutamente fossero di un'ora e passa, quindi il problema in questo momento l'ho riscontrato solo nella Casa di Carta e in Non Siamo Più Vivi, che tra l'altro avrà una seconda stagione. Ripeto, in questa serie abbiamo di diverso solo il fatto che nel primo episodio vediamo la vita di Tokyo prima, anche più vita di quella che vediamo della Tokyo di Ursula Corbero nella serie originale. E visto che ho parlato tante volte della serie originale, voglio notificare quelli che non mi conoscono ancora, che non hanno mai visto un mio video, comunque non hanno mai visto un mio video riguardo la Casa di Carta. Non sono un fan della Casa di Carta, non mi piace, le ultime stagioni sono terribili, le prime le ho viste tanto tempo fa e quindi mi erano piaciute, ma non perché effettivamente la serie sia cambiata col tempo, ma perché sono cambiato semplicemente io, quindi per molti sono diventato snob e critico in tutto, oppure ho imparato semplicemente a riconoscere la merda da un prodotto fatto bene. E quindi in generale, appena è stato annunciato questo La Casa di Carta Corea o anche la serie spin-off su Berlino, serie totalmente inutile, per questo remake non ero in hype. Anzi, ero curioso, ero curioso perché so che in Corea i prodotti sono fatti leggermente meglio che in Spagna e La Casa di Carta è una telenovela con i mitra, mentre in Corea, almeno i prodotti che escono fuori dal territorio coreano, si nota una certa qualità, vedesi appunto Squid Game per esempio. Ed essendoci un brand forte come La Casa di Carta, mi aspettavo che al fondo ci fosse un budget abbastanza alto. E così penso è stato, infatti per quanto riguarda il lato tecnico di questi sei episodi, non ho nulla da lamentarmi, anzi la fotografia è nettamente migliore di quella della Casa di Carta originale, c'è qualche cosa interessante anche a livello di regie, soprattutto nel quarto episodio se non sbaglio, mentre per quanto riguarda la recitazione ho trovato anche lo stesso problema che c'era nella serie originale, ovvero l'overacting, solo che da una parte abbiamo gli attori che non sanno recitare e che quindi vanno in overacting, quindi quelli spagnoli in pratica, non tutti, ripeto, non sono tutti cani all'interno della Casa di Carta originale, però dall'altra parte abbiamo attori, quelli in Corea, che recitano così. Davvero, guardate qualsiasi serie coreana, film coreano e gli attori sono tutti così. È proprio un modo di recitare, anche perché penso che probabilmente vivano in questo modo, reagiscano in questo modo alle cose, eccetera. In tutto questo però la storia è quasi identica, non cambiano i personaggi, non cambia il procedimento dei fatti, quindi siamo sempre lì. Mi ha infatti fatto ridere alcune volte il modo in cui chiudevano gli episodi con questi cliffhanger da far lasciare il fiato sospeso, solo che, essendo uguale, sapevo già come sarebbe andata a finire. C'è una cosa che mi fa ben sperare riguardo questa serie, infatti, negli ultimi due episodi, se non sbaglio, c'è una piccola differenza che svia, probabilmente, che potrebbe sviare, poi non so quando usciranno e se usciranno altri episodi, che potrebbe sviare, appunto, una certa cosa successa anche nella serie originale, quindi abbiamo, per la prima volta, un cambiamento. Però non posso dirvelo, perché, secondo me, manca ancora una seconda parte, cioè, molto probabilmente, manca una seconda parte, non penso si fermeranno solo sei episodi nello stesso punto in cui si sono fermati con il sesto. È innegabile dire che comunque questo progetto è nato solo per il nome. La Casa di Carta Corea è finita, la Casa di Carta originale, quindi Netflix è rimasta senza nulla, almeno prima degli annunci, e per questo è arrivata la Casa di Carta Corea, e per questo arriverà la serie su Berlino, e molto probabilmente ci saranno serie spin-off su molti personaggi della Casa di Carta. Non vedo l'ora. E mi fanno ridere le persone che sotto i post Instagram sotto i trailer dicono «Oh, ma che schifo, che cafonata, meglio la serie originale, come vi siete permessi a fare questa cagata?» La guarderete. La guarderete, darete i soldi della visualizzazione, diciamo così, a Netflix, proprio come avete fatto per tutte le altre cinque stagioni inutili della Casa di Carta. Solo che questa, anche se a livello tecnico è nettamente migliore della Casa di Carta originale, verrà odiata più di quella merda. Infatti mi aspetto un review bombing da parte dei fan accaniti della Casa di Carta solo perché no, non si toccano i personaggi originali. E magari mi aspetto anche qualche recensione abbastanza razzista o velatamente razzista. Già ho letto qualche commento del genere e lasciamo perdere. Io sono con questi, non con i razzisti, con quelli che dicono che fare un remake a nemmeno un anno dall'uscita, dalla fine della serie originale sarebbe stato inutile. E così è, secondo me, e questo, la penso ancora così. Ma non perché sono affezionato ai personaggi principali, non perché mi piaccia la serie originale, semplicemente perché secondo me Netflix deve abbandonare prima o poi un prodotto, soprattutto di questa orrenda portata. E invece no, produciamo remake, reboot, sequel, prequel, spin-off, triquel, quello che volete, tutte cose, con il nome La Casa di Carta in spicco così, continuate a guardare questi prodotti. Perché tanto è ovvio che anche La Casa di Carta Corea durerà stagioni e stagioni, non aspettatevi che finirà veramente con questo colpo. Sicuramente ci sarà il remake anche della seconda parte della Casa di Carta, il secondo colpo. Io spero di no, ma altri episodi sicuramente usciranno. Piccola vera nota di colore in questa recensione, quindi riguardo questa serie, l'ispettrice, che qui non si chiama ovviamente Raquel, perché Raquel è un nome spagnolo, vedere una Raquel in Corea sembrerebbe strano, l'ispettrice è interpretata dall'attrice che interpreta San in Lost. E qui si chiama anche San. Non so se è stato fatto apposta, non so se voleva, se ci hanno pensato, però è stata una cosa inaspettata, almeno per me, non avendo visto i trailer o almeno non avendoli visti con attenzione perché non me ne fregava nulla. Il problema non sorge dal fatto che la storia sia comunque identica perché è un remake. Ok, la storia deve essere la stessa ma ci sono le scene che sono copiate e incollate, le scene ovviamente che sono diventate iconiche, per esempio Denver che si butta sul materassino di soldi, ecco, quella è copiata e incollata sul secondo episodio, non mi ricordo. Comunque, prima di concludere la recensione come sempre do un voto al prodotto che recensisco ed il voto per la casa di carta Corea è un 6. Potrebbe sembrare alto ma voglio andare controcorrente quelli che dicono che farà schifo solo perché è un remake di quell'altro vero schifo. Quindi sufficienza piena. Perché non ho mentito riguardo il livello tecnico della serie? È nettamente migliore della casa di carta anche delle ultime stagioni. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questa serie e fatemi sapere se aspettate altri episodi se... non lo so qualcos'altro fatemi sapere tutto quello che volete. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video e vi ricordo che in descrizione ci stanno tutti i link dei miei social e il link di Pampling per prendere la t-shirt che indosso oggi. codice il pensiero 4 per il 20% di cashback con paio di calze gratis e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao